Il cercatore è il sesto archetipo, il suo colore è l'arancione ed il periodo di sviluppo va dai 35 ai 42 anni, l'età adulta. Appartiene all'asse energetico orfano cercatore sovrano, la sua più grande qualità è la curiosità, la ricerca di significato, l'ambizione e la vocazione, l'amore della conoscenza ma anche l'autonomia, la libertà e la capacità di distacco. Nell'ombra troviamo l'impazienza, la fretta, la fuga, una curiosità superficiale oppure la distrazione per ingannare la ricerca vera e a volte anche l'eccesso di ambizione e la superbia. La sua paura più grande è di essere bloccato, imprigionato nel conformismo. Se l'amante presiede al processo di identificazione che ci fa avvicinare a ciò che ci attrae, il cercatore presiede al processo di disidentificazione che ci fa allontanare da ciò che non ci attrae più per ricominciare la ricerca altrove. Così ad esempio quando sentiamo che abbiamo esaurito il potenziale di una relazione dobbiamo, seppur con dispiacere, lasciarla andare e continuare la nostra ricerca per trovare sempre qualcosa di migliore, per crescere. Il cercatore è anche l'archetipo che ci guida verso una ricerca interiore. Ogni volta che intraprendiamo infatti un viaggio alla ricerca di un significato nella vita questo archetipo è attivo in noi. Ogni volta che scegliamo una formazione, un laboratorio, un corso che ci appaghi, il cercatore sta attivando le sue qualità in noi. Ci spinge ad essere uomini e donne migliori a ricercare nuovi stimoli, a metterci in gioco. Tutti i lavori e le ricerche e gli studi che approfondiamo attraverso corsi, laboratori sono frutto di questa ricerca interiore. È quindi questo archetipo che ci conduce verso nuovi obiettivi con la determinazione e la consapevolezza che il bagaglio di esperienza conquistato sarà utile non soltanto a noi stessi ma sarà disponibile per l'umanità.